Dopo la stagione invernale delle mareggiate, la costa subisce l'invasione di detriti, spesso rifiuti smaltiti non correttamente dall'uomo. E allora ci pensano i volontari dell'Associazione Nuova Galatea. Qui siamo a Santa Maria la Scala, frazione a mare di Acireale. L'iniziativa nasce, guanti e rastrelli alla mano, per ripulire il litorale, ma anche per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente. L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto Pensiero Verde, con l'obiettivo di informare sul valore della natura, del verde urbano e della tutela ambientale, come opportunità per tutti nell'ottica del presente, ma anche del futuro. Questo tipo di iniziative, come quelle quando piantiamo gli alberi con più verde e più bella di Acireale, sono la caratteristica principale della nostra associazione, cercare di fare delle azioni concrete per la nostra città. Questa pulizia della spiaggia è inserita in un contesto più ampio che si chiama Pensiero Verde, un progetto che prevede diverse giornate ecologiche, diverse giornate ambientaliste, anche dei banchetti in città. Siamo stati anche ieri in Piazza Garibaldi, dove abbiamo somministrato dei questionari per capire e per conoscere le abitudini in ambito ecologico e con riferimento alla raccolta differenziata, in modo da poter poi successivamente proporre anche una ricetta, tra virgolette, per migliorare il rapporto tra l'ambiente e i cittadini. Grazie a tutti.